E' previsto nelle prossime ore alla porto di Tarant un nuovo imponente sbarco di migranti con l'arrivo della Sea-Watch 3, nave appartenente all'omonima organizzazione non governativa tedesca. Sono 438 i migranti in viaggio verso la Puglia, salvati nel corso di operazioni di soccorso a largo della Libia. L'autorizzazione delle autorità italiane è arrivata nella serata di giovedì dopo i continui appelli inviati dall'imbarcazione attraverso i social network. Da un lato c'è grande sollievo, dall'altro siamo sgomenti, questo l'ultimo messaggio giunto dalla nave. Ci aspettano altri giorni di viaggio e sofferenze inflitte a chi ha sopportato abbastanza. Sono state infatti 4 le richieste di porto sicuro inviate alle autorità negli ultimi giorni. Sarebbero 116 minori non accompagnati, 40 sotto i 15 anni e 35 donne, di cui 4 in gravidanza. L'arrivo a Taranto è previsto nella mattinata di sabato 30 luglio, ma la Sea-Watch potrebbe giungere nel porto ionico anche con qualche ora d'anticipo. Non è la prima volta che Sea-Watch 3 sbarca a Taranto. Al comando della nave nel 2019 c'è stata anche la capitana Carola Rachete, coinvolta in uno scontro verbale giudiziario con l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini.